Ciao a tutti, benvenuti, oggi nuovo video YouTube, non so se questo video uscirà prima o dopo rispetto a quel vlog dove vado ad acquistare una nuova auto super segreta in quel vlog spiego che ho deciso che d'ora in poi il mio canale YouTube non tratterà solo di affitti brevi o solo di business, solo di mindset ma sarà un po' uno specchio della mia personalità dove andrò a parlare in generale di tutto quello che mi va affitti brevi ovviamente compresi ed inclusi e in larga parte essendo poi il mio core business che insomma mi ha svoltato la vita ma magari parlerò anche delle auto che acquisto, degli investimenti che faccio, degli orologi, di eventi particolari ed ecco perché vi consiglio di iscrivervi al canale sia che vi interessino sia che non vi interessino gli affitti brevi se vi interessano guardatevi solo i video degli affitti brevi, se non vi interessano ma vi interessano altri temi che posso trattare come quelli che ho citato poco fa seguitemi ed ignorate i video che non vi interessano penso che una delle cose belle del guadagnare tanto è l'essere libero non devo seguire necessariamente determinati schemi, determinati canoni farò video che magari avranno 300 views perché sono poco interessanti per la maggior parte delle persone ma mi andava di farli e ci saranno video poi magari come quello che ho fatto sull'American Express Centurion che faranno decine o centinaia di migliaia di visualizzazioni perché sono invece dei temi trasversali che interessano ma siccome non faccio lo youtuber, siccome non devo campare di questo e siccome fortunatamente i miei business funzionano bene al di là dei video che faccio su youtube posso permettermi di esprimermi come voglio senza limitazioni, senza dover seguire dei percorsi prestabiliti e quest'oggi come avrete potuto intuire dal titolo, spero, voglio parlare di tutte quelle volte che ho conosciuto delle persone molto importanti parlo di gente del calibro di Messi, Tim Cook, cantanti famosi eccetera 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 e di come sono arrivato a conoscere queste persone attenzione non sto dicendo che Tim Cook o Messi siano miei amici non ci mancherebbe altro però ho avuto l'opportunità di conoscere queste persone magari scambiarci due chiacchiere, scattarmici una foto e perché vi racconto ciò, non è un flex anche perché sono cose che sono successe tanti anni fa oggi onestamente non me ne può fregar di meno ma c'è un fondo di mindset secondo me in tutto ciò cioè questo video è un po' raccontare una serie di esperienze particolari della mia vita ma c'è anche un po' un fondamento secondo me di motivational video, di mindset, di never give up eccetera 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 vedo tante persone che spesso parlano di never give up, never give up sono magari associato alla palestra no, never give up è anche nel raggiungere secondo me gli obiettivi della vita che ti sei prefissato toglierti determinati sfizi, avere degli obiettivi magari il tuo obiettivo può essere voglio conoscere Cristiano Ronaldo beh sappi che puoi farlo e ci tengo a fare una premessa, tutte le persone che citerò nel video le ho conosciute quando praticamente non avevo una lira cioè sì avevo qualche migliaio di euro da parte ho fatto varie professioni nella mia vita prima di fare il property manager però non è che ah vabbè li hai conosciuti perché sai multimilionario quindi facile paghi e li conosci oppure ah sì beh ovvio frequenti determinati salotti, determinati luoghi, determinati ristoranti ovvio che se vai da cracco ti ritrovi a fianco il calciatore famoso no, sono tutte persone che ho conosciuto ben prima di ottenere successi nella mia vita quindi non avevo una lira, tutto frutto del mio sudore, del mio ingegno, di opportunità che mi sono costruito e questo deve valere un po' a 360 gradi partiamo dalla prima persona, probabilmente l'incontro più epico che io abbia mai avuto da Dolce Gabbana ho conosciuto Messi ma attenzione non era Dolce Gabbana il negozio di vestiti che sai magari per casualità trovavi lì un calciatore no, era un evento di Dolce Gabbana che avevano annunciato dove Messi aveva fatto un calendario come i calendari che fanno magari le fotomodelle ma al maschile con fotografo mi sembra Domenico Dolce, quindi uno del duo Dolce Gabbana tutti i ricavi forse andavano in beneficenza, qualcosa del genere e avevano fatto questo evento dove tu potevi comprare una t-shirt, un calendario grande, un calendario piccolo fartela fotografare da Messi ora, non era per niente economico questo calendario, mi ricordo sarà costato sui 60-100 euro che per un pezzo di carta onestamente non è poco soprattutto all'epoca per quanto guadagnavo però sapevo che avrei avuto modo quantomeno di essere a poca distanza da Messi e ho colto l'opportunità sono andato lì fuori, non avevo pass, non avevo niente perché poi c'era tanta gente che aveva pass eccetera 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 mi sono messo in coda ho comprato il mio calendario e dopo che acquistavi il calendario avevi l'opportunità di metterti appunto in coda e fartelo fotografare da Messi ora, mi spiace perché parliamo veramente di tanti 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 anni fa secondo me almeno una decina di anni fa io forse avevo, non so neanche se avevo 18 anni forse avevo 16 e quindi non c'era tutta sta mania di fare i video di ogni cosa però insomma, coda che vi potete immaginare costernata di bodyguard Messi lì al tavolo e non è che tu arrivavi e passavi il calendario a Messi ovviamente tu lo passavi ad un tizio che lo passava ad un altro tizio che lo passava a Messi Messi me lo firma mi guarda e io in quel momento ho detto questa è l'opportunità della vita nel senso cosa faccio non è che mi guarda perché mi ha riconosciuto chissà che ripeto, ero un ragazzino ero uno sconosciuto all'epoca non che oggi sia chissà chi però comunque diciamo non ero neanche riconosciuto nell'ambito affitti brevi ero un completo sconosciuto e lì non è che ho avuto modo di parlarci devo essere onesto però mi sono preso un rischio ho non scavalcato perché ci sono passato sotto però sono passato sotto questo cordone di sicurezza che c'era mi sono messo a fianco a lui gli ho detto una foto e lui mi fa un cenno di sì con la testa ci siamo fatti una foto e poi ovviamente è arrivato uno scimmione che mi ha preso e mi ha letteralmente spostato fuori dal negozio ma a me non me ne fregava più niente perché avevo il mio calendario autografato di Messi che ho tuttora da qualche parte in qualche casa non so quale e soprattutto ho scattato una foto con Messi che all'epoca per un ragazzo di 16 anni è una cosa di cui tuttora vado fiero poi io sono mezzo argentino quando lo faccio vedere a degli argentini capite bene che è come avere un riconoscimento un trofeo un premio quantomeno per me all'epoca per me è stata veramente una grande soddisfazione non ho avuto modo di scambiarci chiacchiere devo essere onesto però è stato sicuramente molto emozionante ora voi direte sì Ludovico ma cosa c'è di motivazionale in ciò beh c'è sicuramente una lezione secondo me in ogni incontro che ho fatto con delle persone c'è una piccola lezione da trarre nel caso di Messi la lezione è stata sicuramente il prendersi dei rischi io avrei potuto limitarmi nel far passare questo calendario lui me lo avrebbe firmato me ne sarei tornato a casa con l'aver visto Messi a due metri da me e un calendario fotografato da lui che un domani oggi non so quando sicuramente varrà tanti soldi ho voluto invece prendermi dei rischi sono passato sotto i bodyguard sono riuscito a scattarmi una foto con lui e poi mi hanno portato via però cosa può insegnare nel suo piccolo questa lezione beh può insegnare che prendersi dei rischi talvolta ti permette di raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato di questi esempi ve ne potrei fare a milioni come quando ho lasciato il mio lavoro da dipendente dove prendevo più di 2000 euro al mese poco più che ventenne in un'azienda facente parte del gruppo Coca Cola enorme veramente con prospettive di crescita assurde perché comunque in Italia era appena arrivata e quindi eravamo in pochi nel team e si sa quando entri in un'azienda del genere in una fase così diciamo anticipata cioè parliamo di comunque una cosa che in Italia è piccola ovviamente poi la possibilità di crescere di crearti un team enorme sotto di te eccetera 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 eppure mi sono preso il rischio ho lasciato tutto mi sono buttato sugli affetti brevi e oggi vivo una vita spettacolare la vita dei miei sogni anzi forse di più il mio sogno era avere una Porsche mi ritrovo con più Ferrari ho avuto anche una bellissima Porsche ho una Range Rover spettacolare orologio una villa che mai mi sarei immaginato quindi da questa piccola lezione di Messi di un piccolo rischio che mi sono preso pur di avere questa tanto agognata foto io vorrei che vi rimanca questa lezione prendetevi dei rischi nella vostra vita per qualunque cosa sia per incontrare il cantante dei vostri sogni per perseguire i vostri obiettivi lavorativi per la persona che amate prendetevi rischi perché se non lo fate rimarrete sempre col rimpianto se lo fate e fallite almeno ci avete provato se lo fate e ci riuscite tanta roba ragazzi perché ripeto io questa foto l'ho fatta dieci anni fa tuttora quando la vedo mi emoziono tuttora rappresenta un ricordo molto bello per me e quindi tanta roba seconda persona a pari merito con Messi è Tim Cook che molti di voi non conosceranno ma se possedete un dispositivo così beh sappiate che è merito di Tim Cook Tim Cook è stato il vice di Steve Jobs per tantissimi anni quando purtroppo è venuto a mancare Tim Cook ha preso le redini il timone della Apple e tantissimi pensavano che Apple sarebbe morta cioè morto Steve Jobs muore anche la Apple e invece Tim Cook storicamente ha ottenuto dei risultati addirittura migliori di quando Steve Jobs era a capo di Apple l'azienda è arrivata a valere trilioni di dollari tipo l'azienda che vale di più al mondo ha creato anche nuovi prodotti completamente da zero che all'epoca magari di Steve Jobs neanche esistevano tipo l'Apple Vision Pro quindi parliamo di una delle persone più influenti al mondo una delle persone anzi la persona che gestisce l'azienda più grossa più ricca più famosa al mondo e parliamo anche di una persona con un patrimonio di centinaia di milioni miliardi non lo so essendo a capo della Apple comunque ragazzi questa è una persona veramente potente è stata sulla copertina del Time Magazine diverse volte insomma parliamo di una persona veramente potente per quanto potente è anche tanto semplice tant'è che qualche anno fa io andavo già all'università quindi forse avevo 19 anni 20 anni qualcosa del genere annunciarono che Tim Cook avrebbe partecipato alla Bocconi per fare un discorso mi sembra nel giorno delle lauree dei Bocconiani o comunque insomma era un evento simile a quel discorso super filosofico che fece Steve Jobs mi sembra la Stanford University o ad Harvard ma mi sembra Stanford famosissimo vi lascio qui un breve spezzone intervento dal quale come avrete potuto notare è nata poi la frase stay hungry stay foolish siate affamati siate folli probabilmente la frase più celebre di Steve Jobs bene Tim Cook ha fatto la stessa cosa quindi uno speech ripeto motivazionale filosofico molto importante alla Bocconi di Milano che io non frequentavo avrei voluto frequentare ma c'era troppa matematica per me quindi poi ho virato su un'altra università e quindi immaginatevi un ragazzo di 20 anni che comunque Tim Cook è sempre stato un punto di riferimento per me perché è un imprenditore a suo modo è un visionario è una persona che ha rivoluzionato il mondo è comunque stato il vice di Steve Jobs quindi è stato scelto in persona da Steve Jobs persona che ho sempre stimato ho detto caspita questo arriva a Milano io non posso perdermi l'opportunità quantomeno di vederlo dal vivo anche lì conoscerlo scambiarci due parole scattarci una foto la vedevo come una cosa impossibile poi ci sono youtuber che negli anni ci sono riusciti tipo Yakidale che ormai più volte o all'Apple Store di Milano o agli eventi Apple è riuscito a conoscerlo addirittura ad intervistarlo però parliamo di Yakidale probabilmente lo youtuber a livello tecnologico insieme ad Andrea Galeazzi numero uno che abbiamo in Italia quindi insomma parliamo di due categorie diverse io ero un semplice ragazzino ma molti di voi non lo sanno io negli anni ho lavorato dapprima come blogger per siti come iSpazio ho fatto qualcosina anche per HDblog quindi ero già nel settore tecnologico e poi ho fatto per anni il giornalista pubblicista non ho mai fatto l'esame quindi non so se posso definirmi al 100% giornalista pubblicista però ho lavorato per tanti anni per la casa editrice con The Nast che possiede Vanity Fair Wired GQ ho scritto per lo più articoli per GQ ma mi sembra anche uno per Vanity Fair se non ricordo male e grazie al fatto che io lavoravo come giornalista pubblicista e ripeto non ho mai fatto l'esame però ho più di 100 articoli all'attivo con GQ avevo accesso a tutta una serie di uffici stampa io regolarmente partecipavo ad eventi di Samsung di LG di Sony in qualità di giornalista di GQ quindi ho fatto 2 più 2 c'è un evento molto importante alla Bocconi dove arriva Tim Cook ovviamente c'è accesso ai giornalisti perché addirittura la Bocconi mi sono informato all'epoca a una sala stampa e ho richiesto un accredito accredito che mi è stato dato immediatamente perché comunque io avevo tutta la documentazione che attestava che io lavoravo per GQ se non fosse che la sala stampa della Bocconi è letteralmente dietro il palco cioè ma dietro non dietro il palco che sai cammini e ti ritrovi sul palco cioè proprio letteralmente da un'altra parte rispetto al palco quindi di solito i giornalisti hanno accesso alle prime file cioè se c'è un palco con Tim Cook che ci parla sopra di norma i giornalisti sono prima fila seconda fila terza fila o comunque di fronte al palco in questo caso la sala stampa della Bocconi era dietro al palco e tu avresti visto l'intervento praticamente da degli schermi ora io mi sono detto quando mi ricapita l'opportunità di avere Tim Cook a Milano in un luogo pubblico come auditorium della Bocconi e che io faccio ancora il giornalista perché poi nel senso dentro di me sapevo che non avrei fatto il giornalista per tutta la vita e non facendo il giornalista non avrei mai potuto avere questo accesso quindi ho ottenuto innanzitutto un accesso base alla sala stampa mi sono detto qual è il giornalista che ha il potere di muoversi come quando vuole all'interno di un evento beh il fotografo il giornalista che fa anche il fotografo perché se tu fai il fotografo devi scattare le foto ovviamente non ti fanno scattare le foto dalla sala stampa ad uno schermo no se tu sei fotografo sei libero di muoverti bene o male come vuoi sotto al palco addirittura volendo sopra il palco dietro con la scusa che devi scattare delle foto allora io mi sono armato all'epoca mi feci prestare una fotocamera molto importante perché non è che poteva andare lì col telefonino che all'epoca non scattava neanche queste grandissime foto non potevo andare lì con la macchinetta fotografica delle Barbie mi sono fatto prestare una reflex importante per essere più credibile mi sono fatto dare un accredito in qualità di fotografo giornalista e mi sono fatto praticamente tutto lo speech di Tim Cook sotto al palco al termine dello speech io salgo sul palco e lì urlo Tim Tim let's take a photo please ci sono fatti una foto non mi ricordo poi che ero talmente emozionato che mi ha detto tipo ti è piaciuto ti è piaciuto l'intervento sì sì molto grazie mille ti stimo molto gli avrò detto qualcosa del genere e poi a un certo punto vedo una mandria di studenti bocconiani che hanno partecipato all'evento che assalgono il palco e tutti iniziano a chiedergli foto insomma perché nessuno si aspettava questa sua cordialità questa sua umiltà e disponibilità e quindi io sono stato il primo però le persone hanno visto letteralmente quanto lui sia stato disponibile allora hanno detto vabbè se l'ha fatto lui vado pure io a quel punto è arrivata una mandria io me ne sono andato penso addirittura di essermi messo a piangere dall'emozione di aver stretto la mano parlato scattato una foto con una persona per me così importante magari tu sei appassionato di Céline Dion incontri Céline Dion bene se per te il tuo idolo è Céline Dion per me era Tim Cook e lo hai tuttora questa è la storia di come sono riuscito a incontrare Tim Cook che detta così è ah vabbè faceva il giornalista ha chiesto due pass no ma attenzione mi sarei potuto limitare a ho il pass giornalista vado in sala stampa finisce lì ancora una volta ho pensato fuori dagli schemi mi sono ingegnato perché poi la vita alla fine si tratta solo di ingegnarsi e saper risolvere problemi la vita è tutto un problema e bisogna solo risolverli per passare diciamo a livello successivo anche il lavoro che voi fate alla fine voi lavorate per risolvere dei problemi di qualcuno o qualcosa e sempre in un'ottica di problem solving sono riuscito a trovare questa soluzione tale per cui sono riuscito a stare molto vicino a lui e ad ottenere il mio obiettivo che era conoscerlo stringergli la mano scattarci una foto ancora una volta che cosa impariamo quindi da questa storia che mi ha permesso di conoscere eccetera eccetera Tim Cook che bisogna pensare fuori dagli schemi bisogna ingegnarsi e non bisogna accontentarsi perché ripeto mi sarei potuto accontentare di un determinato tipo di pass ma invece mi sono fatto il mazzo mi sono preso rischi e ancora una volta ho osato perché non è che c'era scritto al termine dell'evento Tim Cook scatterà foto con i presenti e lo potrete conoscere quella sarebbe stata una cosa normalissima gli mettevo in coda e lo conoscevo no io ho osato ho rischiato gli ho urlato Tim Tim e sono riuscito grazie a ciò ad ottenere quello che volevo ma magari se non avessi urlato lui se ne sarebbe andato via io non l'avrei conosciuto nessun altro l'avrebbe conosciuto nessun altro avrebbe scattato foto con lui quantomeno nessun altro sconosciuto come me e quindi anche qui sicuramente è una cosa che ogni volta che vedo mi riempie di orgoglio mi rende felice bei ricordi ma anche dietro questa foto c'è una storia motivazionale a mio parere magari per voi è tutto ridicolo ma per me c'è una storia motivazionale dietro questa dietro questo scatto spero che questo video vi stia vi stia piacendo per me anche una sorta di quasi seduta interiore dallo psicanalista dove sto raccontando un po' degli episodi che talvolta non ho neanche mai processato perché mia madre me lo dice sempre Ludo tu a 20 anni hai vissuto una vita che la gente non vive in 100 anni di esperienze di cose incredibili che ho fatto di persone conosciute cioè mi sono ritrovato a cena con Christian De Sica e Massimo Boldi ad eventi con gente dello spettacolo e della tv ma non perché io cercassi queste cose qui magari partecipavo a cene di gala dove venivo invitato in qualità di giornalista insomma potrei parlare veramente all'infinito di tanti altri personaggi italiani stranieri più famosi meno famosi però mi concentrerò su altri quattro personaggi sono Casey Neistat Massimo Bottura Maccio Capatonda reale nome Marcello Macchia e Daniele Bossari parto da Daniele Bossari che è il più il più anziano non anziano di età ma anziano come episodio che è accaduto allora all'epoca io lavoravo per iSpazio che era assieme ad iPhone Italia il blog numero uno mondo Apple cioè all'epoca i blog erano veramente una roba enorme non c'erano gli youtuber eravamo cioè dei semi di lavoravamo con tanti brand quando andavamo agli eventi la gente ah tu sei quello di iSpazio insomma era veramente una roba molto grossa e mi ricordo veni invitato a quest'evento ai magazzini generali di Milano dove veniva presentato il nuovo World of Warcraft penso si pronunci così che è un videogioco per computer principalmente e a presentare c'era Dino Lanaro col quale poi ho avuto un rapporto non di amicizia però comunque ci conosciamo insomma sicuramente spero ci sia stima reciproca presentava Dino Lanaro e tra gli invitati c'era Daniele Bossari Dino Lanaro chi non lo conoscesse grande appassionato di videogiochi Daniele Bossari forse ancora di più Dino Lanaro poi l'ho conosciuto negli anni per vie traverse e non voglio parlare di lui in questo momento ma conobbi a questo evento appunto Daniele Bossari al quale chiesi una foto all'uscita dai magazzini generali e poi gli dissi ah Daniele io comunque sai lavoro per hai spazio se ti fa piacere lasciamoci un contatto che magari essendo che so che sei appassionato di tecnologia riusciamo a fare qualcosa assieme lui è stato molto gentile perché comunque io all'epoca ero anche lì forse neanche maggiorenne e mi diede il suo numero insomma per quel periodo ci siamo frequentati abbastanza lui è stato molto gentile ripeto a lasciarmi il suo numero e da lì non mi ricordo qual è stato il primo episodio però sicuramente siamo andati a cena più volte nel ristorante di mia mamma con dei ragazzi del team di 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 hai spazio dove Daniele addirittura volete offrirci la cena poi forse mia madre rifiutò perché perché giustamente il ristorante era di mia madre o gli fece un forte sconto però mi ricordo questa questa cosa di Daniele Bossari che è stato molto sempre molto gentile mi ricordo che lo intervistai anche per il canale di hai spazio e ragazzi Daniele Bossari magari oggi non vi dice nulla ma all'epoca era veramente grosso cioè faceva mistero ha condotto un sacco di programmi cioè Daniele Bossari è una di quelle personalità della tv storiche che magari oggi non starà facendo centomila programmi come tanti altri però è uno di quelli che c'è da sempre col quale io sono cresciuto quindi per me era un idolo no? cioè io guardavo i programmi da bambino e c'era lui e poi è una persona molto colta conosciuto per puro caso fuori da un evento ho avuto poi modo di invitarlo ripeto a cena più volte è stato sempre molto gentile con tutti i presenti e al lancio dell'iPhone 5 venne all'Apple Store di Carugate al centro commerciale Carosello che se non erro è stato anche il primo Apple Store in tutta Italia che è stato aperto anche lì all'epoca quando aprimo un Apple Store era un miracolo perché ce n'erano pochissimi e lui venne a farsi la nottata con noi fuori dall'Apple Store di Carugate come una persona normale a dormire per terra con noi a chiacchierare di tecnologia di iPhone e poi al lancio come tutte le persone si è preso il suo iPhone mi ricordo che all'epoca chi faceva la nottata fuori dall'Apple Store non veniva ben visto quando nell'intervista gli dissi poi vedo se riesco a trovarla in caso ve la lascio qui ma quindi l'hai comprato e il tuo eh sai sì sto valutando un po' insomma se acquistarlo o meno perché aveva paura di un'ondata di indignazione pubblica del fatto che un personaggio pubblico come lui spendesse così tanti soldi per comprare un iPhone e addirittura al day one queste sono dinamiche un po' italiane dove devi avere sempre un po' paura dire ho comprato la Ferrari ho fatto questo perché passi dall'essere l'idolo delle masse allo stroppo scusatemi il francesismo no? cioè quando Fedez è comprato la Lamborghini ah Fedez è comprato la Lamborghini quando Fedez è comprato la Ferrari ah Fedez è comprato la Ferrari cioè sembra che purtroppo uno non può spendere soldi come vuole viene assolutamente ed immediatamente giudicato però è sempre stato veramente molto gentile mi ricordo che gli scrivo su Whatsapp mi rispondeva sempre ha partecipato a diverse iniziative si è prestato all'intervista e quindi anche qui che cosa si può imparare si può imparare sicuramente da parte sua l'umiltà l'umiltà del fatto che comunque lui sicuramente è una persona molto famosa io all'epoca era un ragazzino e lui è andato oltre cioè nonostante io fossi un ragazzino neanche maggiorenne però lavoravo per Espazio lui si è fidato di me mi ha lasciato il suo numero di telefono mi ha dato credibilità si è fatto intervistare è venuto al day one dell'iPhone quindi molto umile e questo è importantissimo secondo me l'umiltà poi si ok sui social uno fa vedere la macchina quello quell'altro i viaggi fighissimi ma poi se uno mi ferma per strada e mi chiede un consiglio o se uno studente di B&B Academy ha in difficoltà e mi chiede aiuto non che mi chiede i soldi io gli faccio il bonifico però se lo posso aiutare dal punto di vista del business io lo faccio sempre e quindi sicuramente si può imparare l'umiltà da questa cosa di Daniele Bossari sfacciataggine mia sfacciataggine buona e di andare a chiedere ad una persona molto più grande di me molto più famosa di me molto più abbiente di me di collaborare avere un rapporto conoscerci lasciarmi il suo numero di telefono insomma poi è stato il lasciami il tuo numero di telefono e poi ci siamo ci siamo sentiti abbiamo sviluppato tutto questo quindi le due lezioni da questo incontro sono sicuramente umiltà e provateci sempre perché chiedere non costa nulla avrebbe potuto dirmi no non ti lascio il mio numero scusami non posso oppure ti lascio la mia mail oggi si direbbe magari scrivi su Instagram all'epoca Instagram non era una roba così famosa e così usata io ce l'avevo ma non ce l'aveva quasi nessuno e quindi da questo incontro umiltà e provateci sempre e un caro saluto a Daniele Bossari se ci sta vedendo perché veramente una delle persone tutte le persone che ho conosciuto nella mia vita una di quelle che più mi ha impressionato in positivo e ne ho conosciute veramente tante di persone un'altra cosa poi questo è un extra è anche la professionalità dal punto di vista proprio di come si poneva di fronte alla videocamera lui parlava in un modo naturalissimo quando parlava con noi appena tiravi fuori anche una semplice videocamera come quella del telefono subito cambiava il tono di voce l'impostazione si vedeva che era un professionista della televisione si vedeva proprio come cambiava tutta l'impostazione in un in men che non si dica lì capisci che questa persona è nata per stare di fronte alla videocamera grande Daniele se ci stai guardando dopo Daniele Bossali vi voglio parlare di Massimo Bottura io tanti anni fa sempre come giornalista venivo invitato magari a degli eventi di società varie ebbi l'opportunità di essere invitato ad un evento dedicato ai clienti di carta nera American Express io all'epoca avevo forse una banale oro o platino evento che consisteva nel passare mi sembra uno o due giorni in una sorta di percorso culinario enogastronomico con Massimo Bottura quindi mi ricordo che arrivarono clienti da tutto il mondo di American Express borse pazzesche orologi pazzeschi pochissime persone non oso immaginare quante decine di migliaia di euro devono aver pagato e diciamo queste giornate consistevano in una serie di attività io non potevo partecipare a tutte 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 perché ero lì gratuitamente in qualità di giornalista questa è un'opportunità che mi è stata data ma che sicuramente sono riuscito a sfruttare molto bene io e praticamente ho passato due giorni in compagnia di Bottura che per chi non lo sapesse Massimo Bottura è chef numero uno al mondo molteplici stelle Michelin molteplici ristoranti tra cui addirittura il ristorante di Ferrari il marchio automobilistico che si chiama Cavallino vicino Maranello ovviamente è di Bottura pure quello insomma è gestito da lui il menu è fatto da lui eccetera 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 se Cracco è il numero uno super famoso Masterchef eccetera Bottura è il numero uno dei numeri uno caro saluto a Carlo e Massimo se ci stanno guardando quindi ho avuto questa grandissima opportunità dove inizialmente c'era una visita al museo Panini che è anche dove fanno il parmigiano reggiano mi stavo confondendo col grana padano mi avrebbero ucciso quindi praticamente c'è lo stabilimento del parmigiano reggiano all'interno del quale in mezzo alle vacche c'è una casa un edificio dove all'interno c'è la collezione privata del signor Panini quello delle figurine con dentro Maserati d'epoca Ferrari d'epoca auto incredibili da corsa non da corsa insomma pazzesco quindi la giornata è iniziata così con un aperitivo una degustazione dopo quest'evento mi ricordo ci portano nello stabilimento dei parmigiani reggiani del quale io sono un fanatico cioè mangio tonnellate di parmigiano reggiano ogni mese e ci hanno spiegato che le forme sono state messe così perché se cadono a seguito del terremoto si bloccano diciamo l'una con l'altra a mezz'aria non vanno buttate le forme perché in passato con tutti i terremoti che ci sono stati in Emilia sono stati persi un sacco di soldi tutto molto interessante se avete l'opportunità di andare a visitare e fare delle visite guidate all'interno dello stabilimento parmigiano reggiano fatelo perché è veramente super interessante ed è un business incredibile a un certo punto si materializza bottura che anche qui con un'umiltà incredibile parliamo dello chef numero uno al mondo inizia ad aprire delle forme parmigiano reggiano e a imboccarci una ad una e qui c'è stato il primo contatto questa è stata diciamo un'esperienza che io stavo vivendo che altre persone a fianco a me avevano pagato decine di migliaia di euro per vivere dopo ovviamente c'è stata una cena all'osteria francescana e il giorno successivo cena alla quale io non ero invitato perché era esclusiva per i clienti e il giorno successivo invece siamo stati invitati a casa di Massimo Bottura che è una villa incredibile Massimo Bottura tra l'altro ha come sponsor o meglio aveva all'epoca come sponsor Gucci ed era tutto vestito Gucci e Maserati aveva due Maserati molto belle parcheggiate fuori da questa casa abbiamo conosciuto la moglie ci hanno mostrato un orto che coltivano loro e poi nella casa come uno spazio adibito per show cooking eccetera e ci ha fatto uno show cooking spiegandoci come venivano preparati determinati prodotti la spiegazione anche un po' astratta di questi piatti incredibili e anche lì mi sarei potuto limitare a vivere l'esperienza come la vivevano le persone che tra l'altro avevano pagato decine di migliaia di euro mentre io le avevo avute gratuitamente quindi già baciato baciato dalla fortuna però ho voluto osare gli ho detto Massimo io faccio il giornalista posso intervistarti e ho avuto l'opportunità di fargli tutta una serie di domande la cosa che poi mi è spiaciuta è che mi sembra non è mai uscito un articolo con questa intervista perché io non ero andato lì per intervistare Massimo Bottura io ero stato invitato in qualità di giornalista e ho avuto l'opportunità di fargli queste domande poi se il mio capo all'epoca non ha ritenuto diciamo utile intelligente interessante amen però almeno io ho quantomeno vissuto l'esperienza e lì posso dire di aver passato realmente due giorni con Massimo Bottura non che l'ho trovato per caso fuori dal ristorante ci sono fatti una foto ci ha avuto modo di parlare con lui sedermi al tavolo con lui in maniera isolata ci ha raccontato aneddoti sui suoi piatti il significato che hanno per lui il perché dell'orto eccetera 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 è stato molto interessante ed illuminante e io non so quante altre persone voi conosciate che hanno avuto l'opportunità di sedersi e chiacchierare in maniera amichevole con lo chef numero uno al mondo quindi anche questa è stata un'esperienza incredibile ancora una volta l'umiltà di una persona così importante l'abilità di non prendersi troppo sul serio perché comunque scherzava scherzava con con quello con l'addetto del parmigiano reggiano parlava con noi non si sottraeva a niente nessuno e quindi sicuramente da questo incontro ho imparato l'essere numero uno non significa necessariamente essere incravattato non significa essere formale puoi essere il numero uno al mondo essendo te stesso perché Massimo Futura io che l'ho conosciuto è sempre se stesso da questo incontro sicuramente ho imparato e spero che anche voi possiate assimilare l'avere successo senza necessariamente cambiarsi cioè io quando voglio fare una storia polemica faccio una storia polemica su Instagram quando voglio dire quello che penso dico sempre quello che penso anche se vado magari contro anche se mi beccherò un sacco di critiche come quando ho detto che la protesta degli studenti per il caro affitti era una c***a pazzesca mi sono beccato una quantità incredibile di insulti ma ho potuto dire quello che voglio e l'ho potuto fare anche perché sono il numero uno cioè non devo rendere conto a nessuno in ambito affitti brevi non ho dei superiori non ho dei capi non devo leccare al sedere a nessuno sono un uomo libero diciamo che il guadagnare tanto ti rende anche un uomo libero all'epoca se io avessi lavorato per un'azienda e avessi fatto uno statement del genere qualcuno avrebbe potuto dire ah ma come Ludovico che lavora per azienda X dice una cosa del genere l'azienda avrebbe potuto dire che gli ho arrecato un danno d'immagine avrebbe potuto licenziarmi sospendermi e mi è successo una volta uno in un gruppo mi taggasse l'amministratore delegato di un'azienda per la quale ho lavorato molto importante molto importante dicendo ma questo è il genere di persone che assumete nella vostra azienda e il capo rispose no no Ludovico non lavora più da tempo per noi eccetera eccetera ed era vero io non lavoravo più per loro quindi potevo dire quello che volevo però vedete come la gente malata e la prima cosa che va a fare è dire il parere personale di Ludovico io lo associo all'azienda per la quale lui lavora poi in realtà non ci lavoravo più però oggi voi in qualità di dipendenti siete liberi di dire una cosa forte nella quale credete davvero senza avere ripercussioni nel vostro lavoro se la vostra azienda ha storicamente un capo che è di destra o di sinistra voi potete ufficialmente dire un qualcosa che va contro i suoi ideali o rischiate il posto di lavoro bene quello che ho notato è che Massimo Bottura poi non ha detto nulla di che non è che ha insultato ha detto chissà cosa però è libero di essere se stesso di vestirsi come vuole di guidare quello che vuole di dire quello che vuole può anche essere contro tendenza ma tanto lui è il numero uno se ne frega non ha bisogno di soddisfare nessuno cioè lui non è che per stare simpatico a qualcuno per sopravvivere deve leccare sederi o dire cose per compiacere altri lui può dire quello che vuole e lui rimarrà il numero uno io mi sento allo stesso modo libero di poter dire quello che voglio di esprimermi come voglio perché tanto non dipendo da niente da nessuno e questa spero sia la lezione che traete da questo aneddoto ovvero che cercate di essere numeri uno nel vostro lavoro e soprattutto di essere indipendenti da capi eccetera eccetera e fare gli imprenditori vi permette molto spesso di vivere questa sorta di libertà che da dipendenti non potreste avere ultime due persone questo video sta uscendo lunghissimo magari lo dividiamo in due Casey Neistat ok Casey Neistat per chi non lo sapesse è un youtuber regista talvolta anche attore famosissimo negli Stati Uniti gli italiani più international sicuramente lo conosceranno tanti italiani lo conoscono ma non molti diranno chi se andate a vedere è una persona che è non lo so Will Smith quando ha incontrato Casey Neistat è stato Will Smith a fare un post dicendo oh mio dio ho incontrato Casey Neistat per farvi capire è amico di Justin Bieber Mr Beast ha fatto un video con Casey Neistat lavora con Samsung lavora con Apple ha avuto programmi tv in America ed è un per chi lo conosce è un personaggio incredibile anche lui super indipendente super irriverente ha fatto dei video incredibili se masticate due parole d'inglese guardatevi la sua storia i suoi video sono alcuni dei suoi video sono tra i più visti nella storia di YouTube insomma parliamo di una persona importantissima è stato uno dei miei idoli ho imparato l'inglese grazie ai suoi video devo essere onesto a scuola in lingua inglese ero pessimo grazie ai suoi video ho imparato l'inglese è sempre stato il mio sogno intervistarlo più per una soddisfazione mia che per l'articolo che ne sarebbe uscito fuori cioè era la scusa del lo intervisto in qualità di giornalista ma è la scusa per incontrarlo e per conoscerlo se no non ce la farò mai prima mail mi sembra risalga al mio primo viaggio a New York che ho fatto nel 2016 ciao Casey sono Ludovico lavoro per GQ mi piacerebbe intervistarti sarà a New York in queste date e lui mi rispose mi sembra poi vedo se trovo le mail in caso ve le alleggo mi rispose sì sì ci sono va bene scrivimi qualche giorno prima che tu arrivi qui gli scrivo scompare nel nulla cosmico non risponde mai più io intanto a New York ci dovevo andare per viaggio personale va bene così ci ritorno successivamente perché poi dovevo andare a Miami e mi scrive sì 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 va bene stavolta ce la facciamo scusami se l'altra volta non ti ho risposto insomma la sto riassumendo un po' l'ho contatto poco prima di arrivare e poche settimane prima aveva venduto questa sua startup che si chiamava BIM che era una startup dove praticamente tu per filmare dovevi appoggiare il telefono diciamo qua sul petto attraverso i sensori il telefono riconosceva se filmavi così e questo ti ti permetteva di realizzare dei video non falsificabili no quindi non puoi Photoshop non puoi editare non puoi aggiungere effetti speciali devono essere video reali reali e realistici e lo puoi fare solo se ti nel telefono qua perché se devi Photoshopare un video dovresti filmarlo mandarlo sul computer insomma un concetto molto figo l'aveva lanciata tipo un anno prima e sfiga vuole sfiga per me qualche giorno prima qualche settimana prima che io arrivassi lui vende questa startup e ovviamente ha avuto molto riscontro molto successo questa questa vendita e quindi era lì a fare interviste per BBC CNN eccetera spiegando come mai aveva venduto insomma l'ultima cosa che gli interessava sicuramente era fare un'intervista con me attenzione poi lui non è che stava facendo un'intervista con Ludovico Cianchetta Vasquez lui stava facendo un'intervista con un giornalista italiano di GQ quindi comunque per carità avevo una rilevanza ma probabilmente l'aver venduto per decine di milioni di dollari era più rilevante rispetto al fare l'intervista con me ci rimango malissimo devo essere onesto e lì pensavo che non l'avrei mai incontrato ripeto per me lui era l'idolo cioè questo andava in skateboard poi si lancia col paracadute lavorava con tutti i brand di tecnologia insomma era il mio idolo l'avrei voluto impersonificare quindi 2016 non ce l'ho fatta 2017 non ce l'ho fatta nel 2018 vado a Miami gli riscrivo lavoravo sempre per GQ in tutte e tre diciamo le annate gli riscrivo mi dice di sì al che io gli spiego che questa volta sarei venuto con anche un fotografo per scattargli delle foto e addirittura una stylist per andare a vestirlo in un determinato modo per fare un'intervista veramente figa lui mi dà l'ok e ancora una volta indovinate scompare perché io però ero a Miami avevo prenotato un volo per andare a New York appositamente per intervistarlo e iniziano a girarmi un po' dico tu puoi essere famoso quanto vuoi però non ti devi permettere di trattare una persona così che gli scrivo una mail educata ma arrabbiata chiamiamola così dove gli dico ok si guarda la terza volta che mi tiri il pacco avevo organizzato tutto ho preso i biglietti non mi sembra il massimo anche qui se trovo la mail me la faccio vedere e lui mi risponde sì sì scusa hai ragione questo è il mio numero di telefono scrivimi ho tenuto il numero di telefono di Casey Neistat li scrissi su iMessage perché in America non tutti hanno Whatsapp e non pensate che sia una roba molto americana ci sono tanti paesi del mondo dove Whatsapp non esiste li scrissi su iMessage ci siamo sentiti mi diede addirittura anche il numero dell'assistente ci coordinammo e riuscì a conoscerlo non solo conobi Casey Neistat te lo intervistai ma lo feci nel suo studio a New York che anche lì per chi lo segue il suo studio a New York è tipo la Mecca cioè tutti i suoi video la maggior parte sono ambientati lì ha un sacco di cimeli e per me non solo averlo conosciuto ma essere entrato nel suo studio aver avuto la possibilità di di visionare il suo studio cioè è stato veramente emozionante poi avere questo fotografo bravissimo new yorkese che conobi perché lui era fotografo di modo che mi ha scattato anche delle foto in bianco e nero molto particolari di me e lui sono per me motivo di grande orgoglio ora io vi sto riassumendo tutto in 5 minuti quindi vi può sembrare una cosa semplice ma io ci ho messo 3 anni a conoscere questa persona l'intervista che ho fatto è bellissima abbiamo toccato un sacco di punti la trovate ancora se scrivete Casey Neistat GQ nei vari articoli esce fuori l'intervista che gli feci lui un grande ci siamo sentiti un paio di volte su iMessage anche dopo quell'intervista probabilmente oggi a malapena si ricorda di chi sono però anche l'averlo sentito dopo quando gli è nata la figlia che gli ho fatto le congratulazioni lui che mi ha risposto è stato molto piacevole e anche qui che cosa si impara da questa storia la tenacia sicuramente mia di non essermi perso d'animo nel perseguire il mio obiettivo che era conoscere questa persona la sfacciataggine ancora una volta di provarci tanto peggiore dei casi mi poteva ignorare come aveva già fatto molteplici volte e anche però il coraggio di dirgli guarda che mi sono organizzato di quadri è una persona molto potente molto ricca molto famosa americana anche un italiano parliamo di uno a livello mondiale con decine di milioni di iscritti su youtube di dirgli guarda che mi stai mancando di rispetto e se non avessi scritto probabilmente una mail così forte non avrei toccato determinati tasti all'interno di lui non l'avrei fatto sentire in colpa magari non ci saremmo mai incontrati quindi penso che ci sia qualcosa da imparare anche in questa anche in questa storia ed infine maccio capatonda che tutti voi conoscerete per forza non si può non conoscere maccio capatonda è secondo me il comico numero uno che abbiamo in Italia super appassionato io di maccio capatonda da una vita parliamo del piccol per chi lo conosce le parodie dell'idol anche lì parco sempione la canzone di di Elio è storia tese che è stata fatta da lui anche lì lo seguo da quando avevo probabilmente 15 anni 16 anni cioè una vita l'ho incontrato qua e là delle volte magari al lancio della sua serie su MTV che fecero un evento lo incontrai per strada quando filmava degli sketch in giro così incontrai anche Herbert ballerina ma è sempre stato un ciao maccio e facciamoci una foto poi tempo fa è uscita fuori un'asta di beneficenza che lui molto gentilmente ha diciamo accettato di fare dove tu potevi vincere l'opportunità di giocare a golf con con maccio capatonda asta che mi è costata un mille euro qualcosa del genere e anche lì da un lato ero wow posso vincere del tempo di qualità con maccio capatonda con Marcello dall'altra parte io non gioco a golf quindi una persona normale direbbe lascio stare io non gioco a golf e di conseguenza caspita di senso ha che io vinca una un'asta con maccio capatonda per giocare a golf innanzitutto ho vinto l'asta perché c'erano continui continui puntate in alto quindi non diamo per scontato che sia così semplice ho vinto l'asta è già stato un miracolo e poi totale non è stato dopo averla vinta ho detto ragazzi io non so giocare a golf quindi io voglio solo conoscere Marcello per me possiamo convertire il tutto in in un caffè e va benissimo così però anche qui ho osato l'asta diceva in un campo da scegliere assieme in Italia mi ha detto io non vivo in Italia ma dove vivo io ci sono un sacco di campi da golf spettacolari se Marcello ha piacere può venire qua io gli pago tutto non è un problema e e ci facciamo qualche partita io non so giocare quindi li trovo volentieri anche un giocatore italiano che viva nello stesso posto che possa giocare con lui per dargli un minimo di competitività sennò che fa giocare da solo è noioso bene ci sono riuscito ho convinto il manager e Marcello a venire dove io vivo seguendo l'asta doveva essere una partita di qualche ora in Italia e io invece con la scusa del vieni dove vivo io a giocare a golf visto che comunque era un viaggio di qualche ora in aereo non viene per stare un giorno e se ne torna indietro ne ha approfittato per farsi diversi giorni fortunatamente gli sono stato simpatico evidentemente e ci siamo fatti due giorni interi di golf praticamente dove io non facevo nient'altro che guidare il golf kart non sapendo giocare con un giocatore molto in gamba che ho trovato italiano qui in zona che è anche maestro che gli ha dato anche alcune dritte per migliorare i suoi tiri nel golf e non solo perché poi ci siamo trovati lui molto disponibile molto in gamba sicuramente spero che mi sono stato simpatico visto che ha passato diversi giorni in mia compagnia poi siamo andati assieme al mare abbiamo fatto escursioni siamo andati a cena l'ho portato a fare un giro sulla mia Ferrari insomma è stata un'esperienza incredibile molto più di quello che era incluso nell'asta che vi ricordo essere un'asta di beneficenza quindi quei mille euro che io ho pagato per vincere l'asta sono andati in beneficenza di una cosa bellissima ma ho passato giorni in compagnia di Maccio Capatonda dal golf alle cene ad andare al mare ed è incredibile come anche all'estero lo riconoscano ovunque lui è una persona squisita super intelligente e si vi starete chiedendo ma è così simpatico anche dal vivo si è così simpatico anche dal vivo vi ricordo questa piccola gag Marcello qua c'è il lungomare e lui ah il lungomario cioè che per chi lo conosce da una vita sa la sua predisposizione all'utilizzare la parola Mario un po' ovunque quindi anche qui che cosa c'è da imparare avrei potuto lasciar stare la questione asta perché si trattava di golf invece no in maniera molto testarda anche se io non gioco a golf ho visto oltre sono riuscito a non solo incontrarlo ma incontrarlo nel mio nel paese in cui risiedo nella mia città è venuto a casa mia è stato a casa mia gli ho fatto vedere il cinema gli ho fatto autografare i poster del mio cinema sono riuscito ad andare al mare con lui insomma a crearci un minimo di rapporto a fare un'esperienza non solo a livello golfistico che già lì è stato incredibile perché ripeto ho fatto venire il mio paese l'ho fatto giocare a golf io non giocavo a golf ho trovato un maestro di golf si è comunque divertito non è durata un giorno la questione golf ma è durata due giorni siamo andati a cena siamo andati al mare è venuto a casa mia cioè tanta roba quando tu idolatri una persona quando la stimi molto poterci passare così tanto tempo è veramente tanta roba e poi si è creato anche una sorta di rapporto di amicizia chiamiamolo così ci siamo ci siamo visti a Roma più volte ci siamo poi incontrati nel treno e abbiamo passato tutto il viaggio in treno a chiacchierare ho conosciuto la sua compagna lui ha conosciuto mia madre insomma da una piccola cosa complicata perché ripeto io non giocavo a golf sono riuscito a tirar fuori cioè una cosa doveva essere così è esplosa cioè una cosa incredibile per me e anche qui cosa si deve tirar fuori da questa esperienza incredibile si deve tirar fuori che bisogna sempre andare oltre che il non giocare a golf per tanti poteva essere un limite per neanche partecipare io invece comunque sono andato ho partecipato ho vinto l'asta sono riuscito a convincerlo a prendere un volo ci ho passato più giorni si è creato un rapporto di un certo tipo di amicizia insomma non solo il maccio capadonda è un numero uno è super simpatico e lo è anche nella vita reale ma ancora una volta spero che questa cosa sia ispirazionale vi permetta di andare sempre oltre perché se io nella mia vita in qualunque ambito non fosse andato oltre non avessi visto sempre un po' più in là oggi non sarei dove sono arrivato non guiderei le auto che guido non potrei aiutare la mia famiglia non potrei essermi non avrei potuto comprare la casa nella quale vivo e non potrei neanche passare il mio cos'è mercoledì mattino a fare questo genere di video sarei in ufficio a lavorare per due lire al mese quindi spero che questo video lunghissimo vediamo poi se lo dividiamo in due o no vi sia piaciuto sia stato utile ispirazionale motivazionale e se vi va visto che vi ho non so da quanta che stiamo registrando ma vi ho regalato un'ora del mio tempo mi sono aperto totalmente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se volete più video così se avete imparato qualcosa se vi è piaciuto se è stato noioso troppo lungo se possiamo migliorare in qualche modo sicuramente il video ho visto che varie volte si è cambiata un po' la luce purtroppo non sto usando lo studio professionale volevo volevo farlo qui un po' più comodo questo video ma fatemi sapere nei commenti realmente cosa ne pensate se vi è piaciuto quale delle storie che vi ho raccontato vi è piaciuta di più iscrivetevi al canale per anche supportare questo genere di video se vi piacciono sono più contento e ci vediamo nel prossimo video ps se volete maggiori informazioni ovviamente sul mio business su B&B Academy business che di queste storie mi ha permesso di realizzare principalmente l'ultima quella con con Maccio Capatonda però se volete maggiori informazioni trovate tutto qua in descrizione ciao ciao